Il Munda apre i depositi di restauro del Castello Cinquecentesco svelando i segreti delle operazioni di pronto intervento, manutenzione e restauro iniziate nel mese di novembre del 2023. A guidare la stampa nella visita la ditta Kobec di Spoleto, la cui direttrice tecnica Antonella Filiani, con la mediazione didattica fornita dal restauratore Matteo Cannarza e con il supporto di immagini storiche è stato possibile ripercorrere le fasi di intervento negli ambienti sotterranei del castello. La visita ha permesso di conoscere l'eterogeneità delle opere costellite nei depositi, dipinti su tavolo e tele, elementi di arredo liturgico, sculture in terracotta, in bronza e in gesso, dipinti murali e manufatti linee di spoglio provenienti dal territorio abruzzese. Un'apertura straordinaria di nuovi spazi del museo che testimonia ancora una volta il grande lavoro che si sta facendo. Il nostro obiettivo è proprio quello di raccontare ai visitatori che vorranno venirci a trovare che un deposito è un luogo ricco, un luogo ricco di materiali. Dicevamo prima che l'idea del deposito in Italia è quello di un qualcosa di chiuso dove mettiamo quello che non ci serve. In realtà dovremmo riprendere l'addizione francese di riserva, dove invece si mette la cosa più preziosa che hai, per esempio il vino. E qui è la stessa cosa. Noi abbiamo moltissimi materiali che sono un po' offuscati per il loro stato di conservazione, ma grazie proprio a questo studio, approfondimento e restauro, riusciremo a dare a queste opere in nuova vita. E questo luogo ora è un luogo di passaggio. Abbiamo liberato il deposito propriamente detto del castello per permettere i lavori edili e abbiamo spostato qui le opere che lì erano conservate facendo un primo intervento di messa in sicurezza. Quindi quello che vedete è un deposito di sicurezza. Ovviamente non è un deposito permanente, le opere andranno selezionate in maniera diversa, ma questo ci permette di studiarle e approfondirne lo stato di conservazione.